vediamo adesso sempre con un esempio come funziona una memoria di traduzione per capire appunto come si sviluppa questo processo stiamo sempre traducendo, stiamo in quello scenario, stiamo traducendo un manuale di una stampante dall'inglese all'italiano e supponiamo che il nostro segmento attivo, l'abbiamo chiamato così, sia il seguente, cioè la frase che stiamo traducendo sia la seguente there are four ways to change print settings for this printer che tipo di corrispondenze mi può fornire la memoria di traduzione? corrispondenza numero uno, un match esatto, una corrispondenza totale che cosa vuol dire? che nel segmento in lingua di partenza tutto è esattamente uguale rispetto al contenuto dell'unità di traduzione che viene recuperata dalla memoria di traduzione come vedete la frase qui di partenza è esattamente identica quindi direi che potrò tranquillamente leggere sicuramente viene letta la traduzione quando si tratta di una corrispondenza esatta perché ci possono essere errori contenuti nell'unità di traduzione che io posso andare poi a mettere a posto anche successivamente ma una volta appurato che non ci sono errori posso accettarla così com'è un secondo tipo di corrispondenza che può essere individuato all'interno della memoria di traduzione è il cosiddetto full match l'abbiamo accennato prima il full match o match pieno tra virgolette che differenza c'è tra un match esatto e un full match come potete vedere qui nel segmento in lingua di partenza cambia un solo dettaglio che è il numero vedete abbiamo invece di there are four ways to change bla 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 there are two ways to change bla 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 quindi l'unico elemento di differenza in questo caso è il numero ricordiamoci che quando due frasi sono due segmenti sono identici tra loro per tutto tranne che per numeri cifre date string alfanumeriche in generale la memoria di traduzione considererà questi segmenti come uguali tra loro identici tra loro perché tutto ciò che è numero data string alfanumerica viene considerato come un elemento non traducibile elemento placeable viene definito in traduzione assistita quindi quando la frase è identica tranne che per un elemento placeable la memoria di traduzione la considera comunque come una corrispondenza esatta e vedremo dopo nell'esempio l'elemento placeable viene anche autosostituito poi dalla memoria di traduzione in molti casi non lo fanno tutti i cut tool ma la maggior parte degli strumenti oggi fa questo ok quindi seconda corrispondenza ipotetica della mia memoria di traduzione per la stessa frase di partenza continuiamo ancora a lavorare con la stessa frase di partenza un altro possibile match che io potrei ottenere per il mio segmento attivo frase di partenza come vedete in questo caso cambiano poche parole rispetto al segmento di partenza invece di four ways abbiamo several ways e invece di this printer abbiamo the printer quindi è una corrispondenza piuttosto alta dell'85% a questo punto io dovrei modificare il contenuto del segmento target che mi viene proposto ci sono vari modi invece di quattro poi cambiando alla stampante anziché questa stampante e sarei a posto potrei approvare la nuova traduzione e andare avanti un ultimo scenario che vi propongo è questo un fuzzy match simile al 60% come vedete in questo caso nel segmento di partenza non cambiano poche parole ne cambiano alcune quindi invece di for abbiamo several modify invece di change the default invece di print setting al singolare of your printer ci sono un bel po' di differenze d'accordo in questo caso considerando che noi abbiamo impostato all'inizio la soglia minima di corrispondenza al 70% secondo noi questo match verrà proposto automaticamente al traduttore in fase di traduzione la risposta è no perché con la soglia di accettabilità fissata al 70% nessuna unità di traduzione candidata al di sotto di questa percentuale verrà recuperata e mostrata automaticamente questo lo sottolineo perché poi con tutti i cat tool o quasi è sempre possibile fare effettuare delle ricerche di concordanze si chiamano così cioè chiedere alla memoria hai per caso qualcosa di simile che sia anche al di sotto del 70% che mi puoi proporre per banalizzare quindi posso comunque recuperare ciò che è al di sotto di quella soglia ma non ho il suggerimento automatico e questa è la differenza e spero che sia chiara bene un altro concetto che volevo discutere con voi a proposito delle memorie di traduzione è quello dell'analisi di un file in che cosa consiste l'analisi di un file? l'analisi di un file fondamentalmente consiste nel confronto tra il testo o i testi che devo tradurre ok? ricevo più testi da un cliente o da un'agenzia di traduzione posso prendere i miei testi li posso confrontare con il contenuto di una memoria di traduzione preesistente e nell'esempio che abbiamo appena visto questo sarebbe stato sicuramente molto comodo io potevo prendere il mio testo confrontarlo con la memoria di traduzione precedente e avrei avuto questo risultato ok? che mi sarebbe stato molto comodo per farmi un'idea dei match contenuti all'interno di quella ATM come vedete qui io ho fatto qui ho svolto l'analisi di due file erano due testi da tradurre li ho confrontati con il contenuto di una memoria di traduzione come vedete nel rettangolino sotto questi due testi contengono un totale di 23 segmenti la cosa interessante dell'analisi è anche il fatto che l'analisi mi dà non solo il dato relativo ai segmenti al numero di segmenti contenuto nel testo o nei testi che sto traducendo ma mi dice anche quante parole ci sono rispettivamente quanti caratteri ok? e anche chiaramente le percentuali ma questo è più interessante nelle colonne prima e anche quanti elementi placeable anche questo è un dato che ci può interessare ok? quindi elementi non traducibili li abbiamo definiti prima che cosa ci dice quest'analisi? quest'analisi come vedete ci dice che e ne approfitto qui per introdurvi brevemente un altro concetto che poi vi spiegherò dopo ci dice che all'interno dei due testi che io ho confrontato con la memoria di traduzione apro una brevissima parentesi l'analisi viene può essere svolta attraverso un'operazione semplicissima un task semplicissimo direttamente dal traduttore nel momento in cui carico un testo da tradurre posso chiedere al cat tool per favore fammi l'analisi alcuni cat tool la fanno automaticamente d'accordo? quindi è proprio un'operazione velocissima da svolgere quindi mi dice quest'analisi che io all'interno dei testi che sto per tradurre ho due context match il context match ricordatevi questo per ora poi ne riparleremo dopo è ancora più affidabile del 100% match cioè è ancora di più rispetto ad una corrispondenza totale del 100% poi ho una come vedete qui cross file repetition lui la definisce così che cos'è una ripetizione cross file? ce lo dice un po' anche il termine stesso è un segmento che si ripete identico quindi no? abbiamo parlato prima delle ripetizioni lo stesso segmento che si ripete identico all'interno dei due file che io sto analizzando questo significa che c'è una frase che appare una volta in uno dei due testi e un'altra volta identica nel secondo testo quindi in quel caso non dovrò ritradurla a cui mi sta dicendo l'analisi non ho 100% match ma ho un match molto alto nel range 95-99 un altro nel range 85-94 e 18 di questi 23 segmenti sono da tradurre da zero ok? quindi diciamo che qualcosina recupero non tantissimo però posso sicuramente farmi all'inizio un'idea di quello che è il lavoro che dovrò affrontare ok?